I'm the blue moon I saw you Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Dark Vanities Nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico Se non vi siete ancora iscritti al canale vi invito a iscrivervi per supportare queste recensioni Oggi andiamo a recensire il terzo episodio della prima stagione di Rings of Power Questo episodio è particolare, si divide in tre storyline ben delineate e con un chiaro svolgimento La prima storyline che ci viene mostrata è il punto da cui si è interrotto il precedente episodio Quindi Galadriel e Albrand che devono cavarsela su questa nave e come avevo predetto io stanno andando a Numenor Poi la seconda storyline è quella di Nori e con i pelopiedi, questi hobbit, proto-hobbit nomadi Questi hobbit zingari insieme al Meterman, l'uomo dei meteorite Sarà Saruman, sarà Gandalf, chi sarà? E poi il terzo episodio, scusatemi la terza storyline è quella un pochino più debole ma anche più intensa secondo me È quella di Arondir e i suoi amici elfie, insomma i suoi compagni Solo che non ho capito come fanno, forse me l'ho sfuggito nel secondo episodio Ma come mai sono schiavi di questi orchi, ecco, patronizzati da un certo Adar Come avete capito io sto per fare spoiler Quindi se non avete visto l'episodio vi sconsiglio l'ascolto di questo podcast Ora però andiamo avanti Allora, cominciamo dalla storyline di Galadriel a Numenor Allora, Numenor è imponente e si percepisce l'aurea oceanica Insomma, si percepisce il mare nelle vite dei presenti e dei personaggi, no? E come avevo anche predetto nel scorso forse episodio Albrand potrebbe essere il padre di Tio Quindi un re E quindi avevamo ragione io e Victor Laszlo 88 a dire questa cosa Io pensavo fosse il padre di Tio, lui pensava fosse un re Ed entrambi abbiamo quanto pare ragione O almeno la storia del padre di Tio non è scontata Ma penso proprio che ci si possa arrivare, no? Facendo due più due Il padre è scappato, questo qui è in fuga Terra del Sud, uguale, ok? Leanna Stark, no scherzo Cosa dire, questi episodio non mi è piaciuto tanto Un po' sì, un po' no La parte di Numenor è molto ostile contro gli alfi Cioè questo... Quasi che Annatar sia già lì Cioè quasi che Sauron sia già lì a consigliare Farazon Eppure non è possibile perché Farazon arriva... Cioè Farazon non è ancora re nel Silmarillion Lui diventa un re, diventa Farazon Usurpando il trono Del lineaggio normale E credo che il lineaggio Sia di... Non è di Elendil, è di qualcun altro Io credo fosse di Elendil Il lineaggio è di... Di questa regina di cui non sappiamo il nome Di cui io non ricordo il nome Questa fantomatica regina E sì, devo dirlo Qui sono riusciti a far sentire un po' L'atmosfera di Atlantide Sì, si sente proprio questa vicinanza Tra Numenor e Atlantide, ecco Si percepisce proprio a una dimensione diversa Dalla terra di mezzo E davvero ricollega, si ricollega un po' All'antica Grecia, ai Romani Se così vogliamo Tra taverne, scommesse Soldi rubati, no? Gente che ti colpisce nei vicoli Albrand che spacca tutti alla Daredevil Io a un certo punto ho pensato Ma stiamo ad un home fantasy O un action, un thriller Che cazzo è Galadriel fa amicizia con Elendil Elendil, ecco lui E Elendil la porta nella sala dei saggi Dove trovano qualcosa che dà delle visioni Insomma, Galadriel fa 2p2 Pure lei, qui tutti fanno un po' 2p2 E vede, diciamo, il simbolo Che aveva addosso il coso Albrand Albrand che tira di Kung Fu e Kung Fu Panda Io cerco di scherzare Cosa dire? Dire che Galadriel fa questa ricerca La regina è antipatica Cioè, ha gli elfi in antipatia E andiamo e vediamo alla fine Dice, padre, l'elfa è arrivata Proprio quello che temevamo Quindi, a chi sarà sto padre? Sarà Sauro? Non credo proprio Forse parla una tomba o una persona Non ho capito bene In ogni caso sappiamo che forse È ostile agli elfi O forse voleva solo scongiurare Qualcosa che si dovrebbe attuare Cioè, una sorta di predizione Come se l'arrivo di Galadriel Fosse un segno già predetto Predestinato Qui, come si voglia dire E niente La parte di Nomenore è tutto qui Cioè, Galadriel arriva lì E fa notizia con Elendil Albrand si fa il culo Si fa le ossa In entrambi modi E... Capiamo che era un re Scappato in fuoco dalla sua terra I suoi antenati erano Servi di Morgoth Per un patto E io mi sono chiesto Possibile che lui Oppure Tio Addirittura diventi Quindi il re stregone Oppure La bocca di Sauron O comunque Diventi un Asgol Potrebbe essere Potrebbe essere che Valbrand Dove debba poi sacrificarsi Per salvare Tio E che fallisca Oppure che accetti lui Il male al posto di Tio Ecco Potrebbe Dunque questi sono i miei scenari Che mi vengono in mente Un po' la Daredevil e Electra Qualcosa di diverso Riguardo Isildur Che qua chiamano Isildur E non mi piace Isildur Non so se sia la pronuncia corretta Ma mi ero troppo abituato A Isildur Della Trilogia di Jackson Isildur e Elrond Avrò questo Viene nominato Elros E l'ho apprezzato tantissimo Elros Per chi mi ha detto Simarillion È il fratello di Elrond E questo devono chiarirlo Nella serie Perché la gente non lo sa Cioè Io lo so Ma la gente non sa Questa cosa Elros Elrond Forse ci arrivano Forse no Diciamo anche che Il Non so Il quadro di Númenor È carino Ma fino a un certo punto Dentiusi smontenno È intrigante Un pochino Sappiamo che a Númenor Poi c'è l'influenza di Morgoth Cioè È un suo occulto Di conseguenza Qui forse vedremo E qui forse Che vedremo La Sarge Ceredotessa Che le persone scambiavano Per Achille Lauro Alias Annatar Alias Myron Alias Sauron Alias Oscursignore Quello lì Ma non lo so Non lo so Vedremo prima o poi Il Palantir Il Palantir Che si era visto Nel trailer Non mi è mancata Non mi sono mancati Bronwyn E Tio In questo episodio Passiamo un attimo Alla parte di Arondir No scusate Meglio fare prima Alla parte di Pelopiedi La parte di Pelopiedi Questi qua Diciamo che Continuano il piano Devono trovare Qualcosa che si colleghi Alle stelle Mostrate dal Meteor Man Da questo Meteor Man L'uomo del Meteorite Che sia Saruman Gandalf Secondo me è un Gandalf Anche se non dovrebbe Però potrebbe essere Gandalf O un altro Degli Stregoni Blu Ma secondo me Che poi va al sud Con questi Hobbit Chi lo sa Questi Pelopiedi Non lo so Però lo voglio sapere Ma non è un mistero Troppo 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 figo Cioè nel secondo episodio Sembra molto di più Gettonato Nel terzo episodio Diventa così un po' banale Che alla fine lui Venga scoperto da tutti Che loro vengano confinati La famiglia di Enori Intendo Si scopre un po' di più Del background Di queste Famiglie No E mi chiedo Ma che cazzo Nei sceneggiatori Cioè tutte le famiglie Muore la madre Credo che la madre di Enori Sia morta O comunque La prima fiamma Del padre di Enori Di questa Eleanor No Poi è morta La madre di Isildo Con E'Arien Come si chiama La sorella Che non mi è piaciuta E il fratello Anarion Oppure La faccenda Di La madre di Cosu È morta La madre di Durin Non si vede in giro La madre di Elrond Del fratello di Galadriel Il padre di Tio Non si sa dove cazzo è Insomma Tutti questi personaggi Abbandonati Cazzo Sarà un'americanata Oppure no Non lo so Sempre gente morta Per creare dei big round No È come se Per forza Per avere spessore Nei personaggi Bisogna far Perdere qualcuno Ad esempio Il fatto che Il padre di Eleanor Abbia menzionato Quell'altra È una roba in più Che mi è disturbata Perché dico Che cazzo me ne frega Onestamente Cioè Fatemi vedere di più Fate È inutile di costruire Qualcosa così Perché poi c'è stata Quella scena ridicola In cui L'amica di Eleanor Di cui non ricordo il nome Fa proprio la stupida Ma stupidissima Quando arriva il Signor Rintanati Come cazzo si chiama Quello lì Il tipo Il Il Sadoc Ecco Insomma Il vecchio saggio Dei Hobbit Ecco lui E niente Cioè Questo Episodio È pieno di Quella parte Era un po' cliché Un po' comic relief Un po' messa lì Per far piacere I bambini I ragazzini E per allentare Una tensione Che però non esisteva Cioè secondo me La tensione a Numenor Non si percepiva Dovere Era un po' Troppo smorzata Dovevano Cioè Ho capito che Li hanno lasciati Un po' sguinzaghiati Lasciati lì Galadrelli e Albrand Per osservarli Eppure Non saprei Mi sembravano proprio Buttati lì Come se non sapessero Come riempire bene L'episodio Allora ci hanno messo Due dialoghi Due cose Il background Di Isildur Io lo chiamo Isildur Che Con un conflitto Col padre Il padre che però Si preoccupa La sorella Gentile Cose inutili Cioè cosa vuoi fare Urin Turin Neonor Cioè non saprei Che cazzo è sta roba Isildur Voglio il re Isildur Cioè non mi interessa Onestamente Il conflitto Con il suo padre Da giovane Cioè io lo reputo noioso Poi a molta gente Magari piace l'avventura E il suo desiderio Di mettersi alla prova Con la prova del mare Poi per la storia del fabbro Non lo so A me puzza molto Di gandri barati Di altre cose già viste Cioè non voglio denigrarlo E quindi prendere in giro Queste cose Sono belle Però è troppo Da cliché fantasy Che mi capite Cioè Troppo Cioè Galadriel Quella che vuole le risposte E basta E Elendil Quindi amico degli elfi E basta Coso E Edildur Cos'è Un ragazzo Che vuole cercare La sua strada Dopotutto Alber Dell'uomo In fuga Da un passato Tenebroso Che poi potrebbe essere O figo O diventare un cattivo Insomma Troppi cliché Nori Che fa di tutto Pursa di salvare L'amico Meteor Man Cioè Non lo so ragazzi Mi sembra un po' banale Non vorrei dire Cattiverie Perché Alla fine Il signore dell'anelli Non dico banale Però Era un po' Meno complesso Diciamo Perché era tutto Un altro target Tutto un altro genere No high fantasy Diverso da Game of Thrones Era molto diverso Non voglio paragonarli Però Cavolo Cioè Datemi a big bit A figa Non lo so Non lo so L'unico veramente Che mi sta interessando Un po' Sulla scia Di altri Youtuber Anche che ne parlano E altre cose Anche tra cui Valinor Il tipo Frank Di Valinor Che seguo Ecco Diceva che A rondire Era l'unico personale Che gli interessava E onestamente A rondire Alla fine È l'unico Che ha un senso Perché Caladril È bloccata Numenor I pelopiedi Continano a migrare Anzi E lì Poi che schifo Quella messa Quella storta Di Come orazione Dei caduti Della gente Lasciata indietro Dovrebbe commuovere In teoria Ma in realtà Serve per diversivo Per far tornare nori Per guadagnare tempo Al meteoromen Per arrivare fin lì E fare un casino Bruciare le pagine Insomma Ma perché allungate Il brodo In quel mondo Cioè Le pagine Del libro Delle stelle Fagliele leggere Tu le allunghi Per allungare il mistero Ma poi la gente Si stufa Onestamente Chiudetela lì Cazzè E poi Quella parola di amico Detta da Dall meteoromen Mi ha subito Fatto pensare A mellon Quindi amici Dite amici Moria No Di gandalf Nella compagna dell'anello E quindi Io credo che Quello lì sia Proprio gandalf Purtroppo Speravo fosse Saruman Perché Saruman Ah come dicevo In altre parti Del mondo Di internet Del web Saruman Sarebbe figo Perché Saruman Cioè Alla fine Per chi ha letto i libri Lo sa Questo è uno spoiler Per chi non li ha letti Ma lui non muore Come nel film Non muore Isengard Ucciso da Grima Ma Vermilingua Ma Muore nella contea Sempre punulata Morti e tradimento Da Grima Vermilingua Però Nella contea Da Jobbite Quindi lui stravolge Anche la loro vita Portando l'industria Portando Una vita un po' Squallida E monotona E cattiva E controllata Piene di regole Un fascismo Un tito Come cazzo si chiama Dittatura Totalitarismo Ecco le parole Che cercavo E niente Quindi Se dicono Che Saruman Fosse qui E poi Victor Lasio 88 Mi ha fatto notare Anche la Storia Della foglia Marcia Marcisciente Notata Da Gilkalad 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 Come si voglia pronunciare Nel primo episodio Io non me la ricordavo Che fosse da una parte Marcia Questo fa capire Che forse lo vedo a due facce In questo momento Ormene Quindi magari è buono Poi è cattivo Perché a secondi fini Si evolve E magari questo qua È una sorta di Saruman Ancora nel bozzolo Che si deve schiudere Però sta Stare lavorando Per uscire fuori Eppure Non lo so Non mi convince Cioè In questo episodio Doveva accadere di più Secondo me Cioè Abbiamo già avuto Due episodi Per sviluppare Per lavorare Sulla caratterizzazione Di personaggi Se l'ho fatta anche Nel terzo episodio Onestamente Mi disturba Questa cosa Cioè Non dico che sia lento Però figa Datevi una mossa Cioè Dove stiamo andando a parare Abbiamo Otto episodi Otto episodi Siamo quasi a metà Della stagione Ancora un episodio Siamo a metà E non è successo Quasi niente Praticamente No Scusate Se parlo così male Di questo episodio Ma Mi è piaciuto Ma fino a un certo punto Insomma Mi ha fatto ridere Non mi ha fatto piangere Parliamo finalmente Della parte di Adar Che ne dite Adar Che viene menzionato Di continuo Che cazzo è sto Adar Non lo sapevo neanch'io Quanto pare Un elfo corrotto Qualcuno dice Sauron Non credo sia Sauron Perché in quel momento Sauron doveva essere Uno perfido Boh Uno che si vingeva buono Molto perfido E molto bello E Adar Non credo sia Quel tipo di Persona È un villain Surrogato Per non far vedere Anathar Quindi magari Anathar Non lo vedremo mai Oppure l'abbiamo già visto E non lo so Chi lo so Cosa dire Che Adar È tutta la mente Dietro Tutte quelle schiavitù Degli elfi E degli uomini Da parte di York E molto Mi è piaciuta abbastanza La prima parte Di questa schiavitù La parte dell'albero Anche se era un pochino Non dico trash Però Mi ricordava Le sevizie Gli abusi subiti Da Mary e Peppino Da York Da York Nelle due torri Qui abbiamo A Rondire L'altro Che lo si chiamano Insomma altri elfi Uno c'è Quella storia dell'acqua Di nuovo Cittazione Per le due torri Quando Mary Deve bere acqua E gli leccano La bocca Mettono la saliva E qui muore Un elfo Di nuovo Cittazione per Adar Tutto Sottuto Sosseguirsi Di citazioni Con la musica epica Per un elfo Con cui non abbiamo Nemmeno Nempatizzato mai Che noi Non sappiamo nulla Praticamente Cioè è venuto Dice due cose Poi in teoria E' uno che muore O forse è un altro Sarà pure empatia Perché Aaron Dele conosce Tutta una vita Eppure non mi importa Dico la verità Sono cinico In questo momento A Rondire Parla con l'albero Prima di tagliarlo A Rondire Dopo Nella seconda parte Cioè la parte finale Dell'episodio Perché è giusto Secondo voi Secondo me no Ma è giusto Secondo voi Che Tutta la parte Si concentri Quasi tutto Diciamo Tre quinti Su Numelor Un pezzo Sui Pelopiedi Chissà dove E un pezzo Sui Fottutissimo A Rondire L'ultimo Pezzo Di finale E la parte Iniziale Diciamo È brutto È brutto Quando l'episodio Viene strutturato In questo modo Cioè Non è Non ha ritmo Secondo me Scusate se dico Queste cose Ma È il mio pensiero Pensavo Mi spettavo di più Da quest'episodio E poi Cazzo Senza Elrond Figa Io Mi mancava Elrond Mi ha conquistato Con la voce di Manuel Meli E Elrond È poesia Senza Elrond Non lo so Almeno non mi è Garbata Galadriel Non mi piace tanto Albrea non mi fotte niente I pelopiedi sono carini Divertenti Ma poi Dici Cosa vuoi che facciano Non sono Frodo O Sam E Gli altri Come si chiamano A Rondi Per adesso L'unico che Un pochino Mi dà interesse Forse perché sono un maschio Forse perché ho dei gusti Non lo so Io sono anche Molto romantico Molto Divertenti Mi piacciono Quindi Mi piacciono Però A Rondri Mi sembra più cazzuto Lui non ha pretese Di qualsiasi cosa Come Galadriel Galadriel Ci hanno fottuto Elfa Scema Perché Vai a Numenor Ti fai tutta figa Sei Seppina ospitata Vieni portata lì E fai la stupida Galadriel Si comporta In maniera infantile Sapete che mi ricorda Mi ricorda Daenerys In questo episodio Paradossalmente Che schifo Cioè I momenti Mi Mi veniva in mente Bendino In ginocchio E infatti Viene parlato Dei ginocchi Nella ginocchia Che cazzo Io mi sto Prendendo in giro Da solo Cosa di questo episodio Parlavamo Del Mannaro Che arriva lì Attacca Gli elfi Ne uccide alcuni Sbrana della gente Nel caso Non lo so Scene d'azione Un po' Messe lì E figo Non figo Che sia Era carino Dico Mi è piaciuto Però non avevo Un'adrenalina Cioè se avete visto House of the Dragon Il terzo episodio Figa Io La scena finale Anche lì Azione finale Però anche qui Si sono copiati Che ne so Però non lo so Cioè mi dà qualcosa Qualche vibes in più Infatti qui Loro lavorano Sul senso di mistero Perché ovviamente Uno muore L'altro muore Per uno freccia Uno lancia Quel cazzo di angel vellotto Si salvano Ma poi muore L'altro elfo Quindi rimane solo Arondir Che paradossalmente Ricade E viene ripreso Preso Dai Dai orchi Da questi esseri ostili E viene portato da Adar Che si vede sfocato Quindi neanche ce lo fanno vedere Bene in faccia Adar Lo vedremo nel prossimo episodio E non capisco tutto questo hype Cioè va bene Che voglio vedere Adar Però figa Costruite Non lo so Cioè cos'è questa È proprio un cliffhanger Da serie tv Stupida Scusate se lo dico Però Mi è deluso Questo episodio Cioè Ogni tanto Guardavo l'ora Capite Per fare altro E quando succede Questa cosa Vuol dire che l'episodio Non soddisfa Ma poi dove sono i nanifiche La parte del Balrog La parte Del Di Moria Cioè Interessante Oppure Elrond La parte degli Elfi Cioè ci fanno delle stagaladri Mezzoguerriera Cioè cos'è Lagherta Deve essere un mix Di entrambe Prendendo le qualità Peggiore di una Dell'altra Non lo so Ammesso che Lagherta Avesse qualità Peggiore Beh negative Comunque Non lo so ragazzi Mi 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 sconcerta Cioè Voleva essere epico Quest'episodio Non ci è riuscito Perché questa è la mia percezione Voi siete liberi di insultarmi Nei commenti Dicendo la vostra opinione Ma Secondo me Non è l'altezza Dei precedenti Cioè Numenor Non mi ha avuto dato Quel senso di sacralità Io sento già Questa futura Corruzione Che dilaga Sembrava così Che Galadriel Fosse arrivata a Gotham Tanto per intenderci Oppure che Ci fosse qualcosa Tipo Il Fatto di Di avere un Non lo so Tutti questi misteri Qui che poi Non sono misteri Oppure vengono sbrogliati A metà Per lasciare L'altra metà All'altro prossimo episodio È molto banale È molto Da essere tipo Scusatemi Però Se i primi episodi Erano Il primo episodio Era cinematografico Figa Perché non possono Continuare Così Stava andando bene Invece È un calare Il secondo episodio Era meno bello Del primo Il terzo episodio Era meno bello Del secondo Cosa mi devo aspettare Voglio un crescendo Non diminuendo Che cazzo Va bene che non possono Tenere sempre il divertimento O l'azione O l'intrigo Però figa Allora perché House of the Dragon Ce la fanno Con pochi mezzi Rispetto a questi qui E E comunque riescono Perché qui non si riesce Allora E non dico in generale Ma in questo terzo episodio House of the Dragon Terzo episodio Era lineare Segui una logica Questo terzo episodio Qui purtroppo Mi lascia un po' Deluso Non so cosa mi aspettavo Ma non mi aspettavo Questo E anche se mi aspettavo Se mi fosse aspettato questo Non l'avrei voluto così Non lo so Numenor e Numenor I orchi sono i orchi I pelopiedi sono i pelopiedi Punto Mi chiederete cosa vuoi Di più Cioè era questo E lo so Però forse Si potrà cambiare qualcosa Non lo so Cioè mi sembra Di vedere un mix Di serie tv diverse Cioè i pelopiedi Sembrano serie tv Tipo quelle comiche Dei ragazzini No? Zack e Cody Pure Quella di Galadriel Sembra un giallo Quella di Arondir Sembra una roba action Tipo l'Alba 300 no? Quella di Leonida Spartani E non lo so Mischiare queste cose Senza dare il giusto ritmo Io credo che Abbia distrutto L'integrità dell'episodio Narrativamente Ma come scenograficamente Però voglio sapere La vostra opinione Cioè io non so Poi cosa dire Vi saluto Nel nome dell'oro Del fantasy E del gotico E vi lascio Anche il link In descrizione Ai miei romanzi Come sempre Di su Amazon Vi lascio il link In descrizione Che vi porta All'elenco Dei romanzi Che ho pubblicato Su Amazon E vi richiedo Di nuovo Di attivare la campanellina Iscrivendovi al canale Mi spiace Se questa recensione È un po' più breve E meno dettagliata Forse meno bella Però l'episodio Non mi ha entusiasmato Come si è capito E quindi non voglio Fingermi contento Se non lo sono O cattivo Se non lo sono Sono un po' Nel mezzo È un compromesso cattivo Un po' brutto Vabbè Non so cosa dire Nel nome dell'horror Del fantasy E del gotico Dark vanities O cattivo